Sì, balliamo bambam, bambam, triste e poi bambam, bambam, motel, lavoro e bambam, bambam, ragazzi fuori bambam, bambam. La parola di oggi è la parola umiltà. Attraverso questo simpatico corto animato vediamo una situazione di umiltà o di mancata umiltà. Ecco, ma te che oggi mi stai ascoltando, stai guardando questo breve video, cosa vuol dire per te la parola umiltà? Non cosa vuol dire per i libri, su quello che ti ricordi o che hai imparato a scuola o su quello che dice il Vangelo, ma per te in questo momento quanto conta essere umile? Ecco nel cammino di Quaresima, nel cammino verso Pasqua, l'aspetto dell'umiltà ha un valore grandissimo. Proviamo a pensare una risposta alla domanda quanto è importante per me essere umile e soprattutto riesco veramente ad esserlo. Buona giornata a tutti e continuiamo a vedere questo simpatico filmato. Buona giornata a tutti e continuiamo a vedere questo. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.